Un attacco terroristico anche con armi chimiche in due punti nevralgici della città, la stazione dei treni e l'università. Non la realtà, una simulazione sulla carta gestita dalle funzioni di comando coordinate dalla prefettura e promossa su input del Ministero dell'Interno, 1.400 le persone in campo, un impegno che per 24 ore ha coinvolto le forze dell'ordine, l'esercito, i vigili del fuoco, ma anche operatori di servizi dai gestori di acqua e corrente elettrica alle linee telefoniche, punti strategici quelli scelti. Questi sono i posti, da lì si parte con lo stress maggiore e poi si scende verso quelle che sono soprattutto i concetti di viabilità, di afflusso dei mezzi di soccorso, afflusso delle squadre speciali. Una macchina promossa alla fine delle 24 ore di prova che ha però permesso di mettere in evidenza alcuni punti su cui lavorare, la gestione della viabilità e delle vie di fuga e anche sul fronte sanitario la predisposizione di un piano in caso di assenza temporanea dei due pronto soccorsi cittadini. Azione tempestiva da parte delle forze provinciali, tempi strettissimi, massimo 4-5 ore, anche per l'intervento delle unità speciali. Noi rispondiamo attraverso questi posti comando con tutte le nostre centrali operative, cittadella, est, piove di sacco, abbano e tutta la cintura urbana che effettivamente con le stazioni carabinieri rappresenta dei presidi di protezione civile.